allora io scavo così con due cose così almeno se io ti faccio questa offerta, tu li vuoi questi stivali vero? si li voglio guardali, guardali, annusali cosa state facendo? dai iniziamo allora oggi dovremmo andare nel nether amici tunisiani allora prima di tutto dobbiamo andare a prendere l'ossidiana quindi noi abbiamo gli stivali perché voi sapete che nella 1.16 bisogna indossare gli stivali altrimenti i plugins ti uccidono ti fanno fuori mi sa che abbiamo sbagliato strada amici sono un genio chiara spostati se no ti devo salire no? no non sali perché salo io salo io allora dovrebbe essere qua la lava ok quella qua ok allora prima di tutto non lo fare stupido ma è un piccone di diamante perché non ce l'ho ah vero ho posato il diamante su dunisiani sono un genio allora mettiamo giù la crafting table e adesso mi crafto il piccone che è successo Gabri? no è anch'io il piccone di diamante eh 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 li devi esatto li devi prima trovare i diamanti te lo devi meritare Gabri e adesso prenderemo l'ossidiana si sarebbe molto bene allora prima di tutto prima di tutto Gabri vieni qua se no sai come va a finire poi dopo ti sgrido non vuoi che ti sgridi giusto allora prendiamo questa ossidiana e ci rivediamo dopo allora abbiamo raccolto l'ossidiana tipo 14 ne bastavano 10 infatti vabbè e chi se ne frega cioè l'ho preso anche per il tavolo degli incantesimi perché serve 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 anche il tavolo oddio no e spero di incantare presto Denis vorrei l'armatura di nederite eh sì beh 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 l'armatura di nederite è bella quella no infatti c'è Denis è bellissima però adesso Gabri dobbiamo prima andare nel neder per avercela no? sono laggato no non laggate se no vi vanno comunque Doniziani se volete potete entrare anche voi in questo mondo bellissimo vanilla in cui non abbiamo ancora fatto niente perché vogliamo costruire un castello enorme allora venite qua da me lo facciamo qua il portale ok? va bene e ah mi raccomando voi due craftate un tipo un accendino un film ten stile faccio io faccio io faccio io ok bravo bravo Gabri fai tu intanto Chiara tu seguimi e qui dalla montagna spiazzarsi ah bello mi sto qui a arrivare tipo divina però bella questa cavella si la facciamo qua che ne dici? si esatto qua dentro tipo si ci sta un sacco è che facciamo allo spawn ok molto bello molto bello allora io direi di togliere un po' di terra guarda che schifo la terra mamma mia si esatto che schifo allora abbiamo fatto il portale quindi venite e e entriamo allora ah prima di tutto prima di tutto prima di tutto mettiamoci gli stivali in ferro così evitiamo di morire ecco brava brava Chiara brava Chiara che se l'ho ricordata allora vediamo come sarà questo nether adesso vi immaginate spugniamo nella lava moriamo no dove siamo? no che ah siamo in una soul sand valley oh no una soul sand valley vuol dire questo gabry allora prima valley eh esatto vuol dire ghast si vuol dire ghast comunque loro conoscono meglio il nether nuovo di me perché loro ci hanno giocato in un altro server Dennis guarda ho fatto le torce blu bravissimo gabry dammele un po' che devo farle vedere devo farle vedere ne ho fatto solo 4 vabbè vabbè meglio meglio così vediamo un po' come sono queste torce blu oh mio dio no vabbè sono bellissime sì esatto sono troppo belle sono troppo contento sono troppo contento eh sì sembra che illuminano di più che nell'overworld ma sai che può essere eh senti il rumore della soul sand quando scavi esatto aspetta silenzio oh che bello ok allora abbiamo trovato questa cosa adesso dobbiamo scendere però come che facciamo a scendere eh 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 esatto sapete cosa facciamo adesso dobbiamo scavare in giù però in un posto dove si può scavare tipo qua non si può scavare eh vedete eh eh bisogna bisogna stare un po' attenti e cercare di non morire eh voi che ne dite eh magari eh esatto magari torniamo indietro ecco di qua no è impossibile impossibile eh mi sa che dobbiamo tornare indietro tipo da questa parte esatto qua magari allora facciamo così scaviamo per due magari saliamo qua sopra Dennis scaviamo verso sopra come verso sopra verso sopra non andrmi niente eh infatti allora io scavo così con due cose così almeno se ok allora siamo qua giù e devo dire che è molto bello questo posto è molto inquietante questa è questa è questa è Dennis c'è il fuoco blu sì è un blocco e sono sarebbero fossili questi ah i fossili ah bello mamma mia che belle queste cose piangono va bene sì ma poi il suono che fanno c'è Dennis Dennis qua c'è anche il fuoco blu c'è il fuoco blu guardate che bello con la soul soul sì bellissimo sulla soul sand e sulla soul soul e allora dobbiamo prenderne un sacco per costruire meglio il castello tipo medievale con il fuoco blu sì ci sta un sacco ci sta un sacco no vabbè bellissimo adesso dobbiamo andare a trovare però altri biomi nel nether quindi amici recitiamo una direzione e andiamo in quella direzione ditemi se mi spara eh dite dite dunis attenziona eh esatto oh mio dio è caduto metà coso avete visto dunisiani oddio c'è il basalto deltas questo qua lo adoro oddio il basalto mamma mia che bello sentite aspetta silenzio sentite sentite i rumori no vabbè bellissimo cioè bellissimo cioè mamma mia che bello eh attenzione che qua si cade cos'è la blaketon fatemi vedere è tipo una è come la pietra la pietra nera però è nera oh mio dio puoi fare questo a fricks neri no vabbè bellissimo no vabbè dunisiani cioè piango ma in questo video mi sa che non si vede un cavolo allora scusate mettete un sacco di torce quando facciamo così io non ho sai quando esce la 1.16 quando? il 23 giugno cioè non manca tantissimo vero vero c'era scritto porca miseria mi fanno mettere crattare le torce queste cose allora quindi il 23 giugno hanno dato la notizia il 23 giugno esce la la nuova versione esatto la 1.16 che è la nuova versione di minecraft che è questa versione qua che stiamo giocando noi però allora prima di tutto non darmi i colpi Gabri sennò dopo vado i colpi volevo colpire il magma cube ma io avevo disattivato le particelle di unisiani ma guardate che bello si sembra che merita oddio che bello c'è un gas di dietro e vabbè allora venite forza andiamo cerchiamo cerchiamo Gabri lascia perdere il gas e vieni forza bravo allora andiamo andiamo a prendere a trovare altri biomi forza perché qua servono serve trovare altri biomi perché dobbiamo far vedere il video di Donizia mannaggia ai magma cosi qua stiamo attenti no state attenti esatto stiamo attenti tutti quanti mi raccomando attenzione a non morire perché qua se moriamo poi dopo perdiamo tutto e non va bene eh eh esatto perché poi ci aveva messo anche tanto a prendere questi materiali infatti oddio no se cade se cade nella lava ok attento qua stiamo attenti qua chiara chiara no stai scherzando no chiara ma non ci credo ma hai perso tutto ciò no allora duniziani stavano cercando cioè nel senso stavano morendo tutti quanti chiara è morta un'altra volta ci ha messo un salato ad arrivare qua io però ho finito il cibo hai finito il cibo ma io non ne ho molto bene molto bene andiamo di bene in meglio no allora questi sono questo è il nuovo legno no bellissimo guardate quanto è bello questo rosso è della Crimson Forest che si chiama così è della Crimson Forest si chiama così ma tutto quanto scuso vuolsi sapere come si chiama in italiano questo legno come come si chiama cremisi tipo gambo di cremisi non ha senso in italiano ebbè in italiano sono sempre un po' strani comunque venite qua cos'è questa struttura ditemi è il bastione la nuova struttura dei piglin che sono questi qua i piglin sono delle specie di pillager però del nether cioè in realtà delle specie di pillager ah bellissimo quindi il bastione perché praticamente se non tieni delle robe addosso ti attaccano se hai delle robe addosso non ti attaccano ok perché è tutto quanto strano questo chiaro voglio attaccare qualsiasi aspettate ad aprire le casse perché se vi vedono i piglin che aprite le casse si ammazzano quindi dobbiamo aspettare denis ho trovato un blocco d'oro bravo bravo dobbiamo farci vedere che lo prendiamo si ah ma che figato no vabbè bellissimo questo nether lo sto amando vi giuro allora facciamo così prendiamo prendiamo questo prendiamo quest'altro si se me lo capite e mi raccomando voi prendete anche queste cose che sono belle oddio no c'è denis c'è l'oglin no i piglin mi odiano perché le ho preso loro si ti sei fatto vedere del purgello no quello là fa troppo male non ho neanche il cibo ho quattro cuore allora facciamo così facciamo così e facciamo che andiamo usciamo fuori da questa struttura e se andiamo qua sopra qua questo bioma dovrebbe continuare a quanto ho visto allora prendiamo questa tutte queste cose bellissime però bisogna prenderle con sick touch adesso ah non si può prendere perché una volta nello snapshot nei vecchi snapshot si poteva prendere adesso non si può più prendere quindi eh l'hanno cambiato ok ok questi funghetti sono molto belli noi ovviamente come al solito prendiamo il legno allora per ora abbiamo visto questi due biomi che in pratica era come che si va beh insomma quello col tutto nero col basalto invece questo tutto quanto rosso con il legno bellissimo bellissimo esatto e quindi direi di far finire qua il video eh dimmi dimmi l'ultimo bioma con la foresta blu la esploriamo nel prossimo video allora fateci sapere se volete vedere un'altra esplorazione del nether ce lo faranno sapere i tunisiani ok ah ok fatecelo sapere nei commenti se lo volete mi raccomando eh nei commenti scrivetemelo se lo volete perché poi lo facciamo se me lo scrivete invece se non me lo scrivete non lo facciamo ricordatevi di iscrivervi al canale questo è molto importante perché vedo che molti non si iscrivono invece dovete iscrivervi perché così vedrete tutti i miei altri video e direi che se siete arrivati in questo punto del video dovete scrivere come si devono scrivere devono scrivere legno rosso saltami addosso sono molto creativo sempre saltami addosso sì 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 legno rosso saltami addosso bellissimo questo e quindi ci vediamo al prossimo video donisiani ciao ciao